...ci raggiunge, abbiamo il momento del premio che vi chiamo a sei storie di successo, di eccellenza dell'agroalimentare, nei mondi che sono comunque vicini a voi. La buona televisione, ti puoi fidare che promuove l'Italia e i suoi giacimenti enogastronomici, per i colleghi di linea verde Rai 1. Grazie. Grazie, grazie. Complimenti per tutto. Abbiamo davvero Marchesi a raggiungerci, intanto io leggo la motivazione. Il maestro che ha elevato la cucina italiana fonda d'arte, leader stivato e benvoluto e, cosa importantissima, grande talent scout. Questa è una cosa che poi costituisce... Ma c'è anche qualcosa? Sì, sì, certamente. Beh, oggi abbiamo parlato di talmente tante cose che hanno riguardato la sua vita, la sua vita professionale, che immagino che stava lì un po' a frigge, dicendo che vorrei dire qualcosa di più. Tante cose da dire. Tutto questo escursus che abbiamo fatto sulla grande risoluzione di teatro. No, no. Questa è una cosa che mi serve sentire tante cose. Però io vorrei concludere questa riunione dicendo... Mi ha ricordato una frase di un amici che mi sembra che se tutti facessimo un altro dovere, lo Stato non avrebbe bisogno di fare niente. Perciò hanno portato le maniche e tutti cercati di lavorare senza sperimentare un riconoscimento da qualcuno. E questa è una frase, una filastrocca del Dalai Lama che conclude, appunto dicendo così, se non lo stessi sentire. Grazie. 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 Grazie a tutti. A su voi l'abbiamo passato durante la sua sonda. Gli dobbiamo quindi un doppio ringraziamento intanto per il suo intervento. Questa mattina per i successi che ho avuto a Parigi Prego Leggiamo la motivazione Motivazione, il singolo della migliore ristorazione italiana nel mondo Allora, fantastico Sfattamente mio papà è deceduto Ma mia moglie è qui che mi sostiene da anni E tanti amici Allora, un singolo della migliore ristorazione italiana nel mondo Sono molto lusingato e fiero E fiero di continuare a poter Progredire e far avanzare Grazie Sfumeggiata Fumeggiata 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 Con il riconoscimento di questa esperienza positiva Che però non finisce qui Fumeggiata 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 Fumeggiata